Dal 1 novembre scatteranno gli aumenti sulle tariffe del trasporto pubblico locale, sia per le autobus che per i pullman, stabiliti dall'Agenzia della Mobilità. Per i biglietti urbani l'aumento sarà di circa il 10%, mentre su quelli extraurbani dell'8%. Per gli abbonamenti settimanali si pagherà infine circa 2 euro in più. Gli abbonamenti mensili ed annuali, invece, non subiranno variazioni. Autoguidovie ha deciso quindi di lanciare la campagna a prezzi bloccati, soldi risparmiati, per sottolineare il sempre più rilevante vantaggio economico per famiglie, studenti e pendolari, che scelgono in maniera sistematica il trasporto pubblico. Prezzi bloccati quindi per gli abbonamenti ordinari e studenti, sia mensili che annuali, e per i carnet smart worker extraurbani da 16-24 corse. Si tratta di titoli ancora più convenienti rispetto ai biglietti ordinari, ai carnet e ai settimanali, che sono invece oggetto dell'adeguamento tariffario. In un momento così difficile, ha commentato Gabriele Mariani, direttore Operations di Autoguidovie, Vogliamo rispondere alle esigenze delle famiglie, offrendo abbonamenti a un costo contenuto. Abbiamo studiato tariffe agili per chi fa smart working e collaborato con le università per sconti ai dipendenti e studenti. Vogliamo incentivare il trasporto pubblico locale, che è fulcro su cui si poggia l'organizzazione delle nostre città.